La BCC Metauro ha donato all'ospedale di comunità di Fossombrone un'importante apparecchiatura elettromedicale per gli ambulatori di The Hospital della struttura. In una follata conferenza stampa sabato mattina scorso con le autorità cittadine e di vertici della sanità locale, compreso il presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, Fabrizio Volpini, in un dubbio appuntamento con l'occasione anche di mostrare il macchinario donato dalla BCC. Si tratta di un monitor multiparametrico per endoscopia di ultima generazione per controllare le condizioni dei pazienti nella fase di post-sedazione. L'unica banca del territorio che rimarrà nel tempo sarà sempre ed esclusivamente il credito cooperativo. Malgrado ci siano tentativi di ridurre sicuramente l'operatività del credito cooperativo da parte delle grandi strutture. Noi riusciremo, perché siamo vicini alla gente, ai loro bisogni, di mantenere il nostro ruolo insostituibile. L'occasione, come dicevamo, è stata duplice e utile anche per inaugurare e mostrare agli intervenuti una nuova aula dell'ospedale adibita alle cure intermedie e dell'ACAP. Rispondendo sempre di più così al fabbisogno di assistenza di prima necessità degli ospedali, intervenendo così anche al meglio al ruolo a cui sono chiamati a rispondere gli ospedali di comunità con una prossimità sul territorio, come è stato ricordato durante la conferenza stampa. Oggi abbiamo inaugurato dei nuovi locali approntati dall'Azur, che sono il reparto di cure intermedie, dove sono stati ampliati e aggiunti i bagni, perché le cure intermedie prevedono logisticamente uno spazio diverso dalla medicina. E il nuovo ACAP, dove sono stati reinseriti dei letti, diciamo così, delle lettighe, per rendere più accogliente la struttura, in modo tale che i pazienti doloranti possono essere adeguatamente accolti.